La prima cosa di questa stagione che vale la pena di citare è che dopo 18 anni Aida torna al Carlo Felice. 18 anni è un'età in cui si passa dalla nascita al voto, quindi non è esattamente, sono generazioni. Torna finalmente Aida al Carlo Felice e torna anche grazie a questo rapporto di sostegno che presentiamo oggi con Banca Carige perché Banca Carige oltre ad essere la nostra banca partner è anche il main sponsor della serata di inaugurazione dell'opera che sarà proprio la serata di Aida. Il parterre di artisti che avremo quest'anno è significativo, mi voglio limitare a tre nomi perché sono tutti e tre legati al Carlo Felice. Mi faccio dal basso dei ruoli il maestro Daniel Smith che in questi giorni dirigerà anche il barbiere di Siviglia a Porto Antico che aprirà la stagione sinfonica, il festival Paganini, il nostro direttore ospite principale. Il nostro direttore principale che è Battistoni che dirigerà tra l'altro l'opera inaugurare Aida e il felice ritorno del nostro direttore onorario Fabio Luisi che dirigerà un grandissimo concerto di quelli diciamo così dove Luisi e Celle che è una delle grandi sinfonie di Gustav Mana. Intanto non scegliete, è una domanda che non si fa. Sicuramente non perderei le tre inaugurazioni Aida and American in Paris, probabilmente sarà una produzione di stampa europea, cioè con prendendo questi e poi ci aggiungerei anche un lago dei Cigni che fa sempre bene, un lago dei Cigni soprattutto sotto Natale. Poi sceglierei questi perché così avete tempo di pensarci e l'anno successivo perché questo è tutto prima, nel 2018 potete prendere il resto.